Stasera conosciamo Leonardo Sernicola e lo conosciamo per quello che riguarda il mondo extracalcistico, anche se la prima domanda Leonardo sarà sul calcio. Quando hai deciso che questo sarebbe stato il tuo lavoro? Sinceramente non c'è stato un giorno preciso in cui ho detto oggi inizia il mio lavoro, con il tempo, con il lavoro è arrivato quello che sto facendo, ma sinceramente non è ancora niente e cerco di fare sempre meglio. Che lavoro avresti fatto, anzi avresti scelto magari, se non avessi giocato a calcio, se avessi deciso che il calcio in fondo non fosse la tua strada o il tuo destino? Sinceramente non ci ho pensato, mi sono iscritta adesso all'università, andrò a fare scienze motorie, quindi sempre un ambito a livello sportivo, quindi sempre nel mondo dello sport, con poi dei rami nell'ambito dell'alimentazione per diventare nutrizionista, che sono sempre stato un po' appassionato dell'alimentazione. Quindi diciamo, quando smetterai di fare il calciatore, volendo, la ternana o chi per lei potrebbe anche assumerti come addetto alla nutrizione dei giocatori o come magari preparatore atletico? Sinceramente non lo so, sì. Tanto sponsorizzo il tuo futuro, prendetelo. Ok, ok, grazie. E senti invece, tu sei di Civita Castellana, da quelle parti si tifa o Roma o Lazio, tu per chi tifi? Fin da piccolo ho sempre tifato per la Juve, che a casa siamo tutti juventini, però piano piano con il tempo questa passione un po' diminuisce con l'andare avanti nel calcio, però c'è sempre questo tifo lontano, dai. Diciamo, sei un tifoso latente della Juve? Sì, sì, diciamo. Bene, questo è il tradimento per le squadre laziali, saranno contentissimi di questa cosa. Senti, che tipo di bambino eri da piccolo? Eri tranquillo come sembri adesso oppure eri una piccola peste? Sinceramente da piccolo ero molto più agitato, non mi trovavano mai a casa, ero sempre in giro con gli amici a fare casino, diciamo. Però invece con il tempo mi sono più tranquillizzato, ho messo la testa sulle spalle, sempre sul pezzo concentrato nella vita di tutti i giorni. Quindi diciamo che adesso sei maturato e sei diventato un tipo un po' più riflessivo? Sì, diciamo così, sì. E invece con gli amici adesso che tipo sai? Che cosa ti piace fare? Uscire oppure magari preferisci stare a casa? Con gli amici sì, mi sento sempre, gli racconto come va con il calcio, con la ragazza, con qualsiasi cosa, con la famiglia e mi stanno sempre vicino e sono ragazzi speciali. Che cosa ti piace fare con loro? Quando hai possibilità comunque di vederli, anche perché abiti comunque vicino, quindi? Sì, ma quando torno a casa sto con loro, ci facciamo un giro, due chiacchiere, poi alla fine sono queste le cose che si fanno, il cinema, un giretto in macchina, così. Diciamo un tipo tranquillo? Sì, sì, sì. Quindi ci hai già detto, fra le righe, che sei fidanzato? Sì, sì, sono fidanzato con una ragazza da quasi sei mesi e una bella storia, mi sto trovando bene con lei. Ci facciamo un po' gli affari tuoi. Come si chiama e come vi siete conosciuti? Si chiama Valeria e è la vicina di casa, al mio paese e ci conosciamo già da parecchio tempo, però non so com'è nata la cosa. Diciamo che ci è voluto del tempo, è stata una cosa un po' lunga. Sì, sì, sì. Benissimo. E invece senti, che tipo di musica ti piace ascoltare? Ma sinceramente un po' tutti i generi di musica, non ho generi specifici che sento spesso, un po' di tutto. Peccato, perché se tu mi avessi detto il nome di un cantante io ti avrei fatto cantare. Meno male, allora. Non avresti cantato? No. Niente, non ne troviamo uno che canta comunque, ragazzi, questa cosa è gravissima. Siete o tutti stonati o tutti timidi. Sì, non lo so. E invece senti, mi hai detto che vai al cinema, che tipo di film ti piacciono? Più di azione oppure magari più un genere thriller, oppure magari una commedia? Ma sinceramente fin da piccolo con mia sorella abbiamo sempre visto film horror, diciamo che siamo appassionati dai film horror. E li abbiamo sempre visti a casa, al cinema, quindi il genere horror. Quindi io con voi al cinema non ci vengo, perché ho paura, quindi non vengo con voi al cinema, tranquilli. E senti, invece con i compagni, magari con i più giovani, c'è qualcuno con cui esci magari quando sei qui a Terni? Sì, ma qui a Terni con i più giovani ho legato con tutti. Poi capita il giorno che esci, il giorno che sei a casa e ti riposi. Poi alla fine sì, siamo i più giovani magari a stare insieme, a cena insieme. E sì, con Petriccione, Tascone, questi qua. E invece senti una cosa sulla tua convocazione nazionale. Com'è la nazionale rispetto a una squadra di club, ma comunque diciamo locale? Ma sinceramente non vedo grandissime differenze. Sono tutti ragazzi della mia età, alcuni con un anno in più, ma c'è un ambiente tranquillissimo, ti fanno stare tranquillo, sei a tuo agio, perciò c'è proprio un bel ambiente. Diciamo un ambiente abbastanza tranquillo, un po' come stare qui comunque. Sì, sì, sì. Non hai né troppe pressioni, sei giochi, ti diverti, tranquillo, proprio sì, spensierato. Bene, benissimo. Ti ringraziamo per la pazienza e per la gentilezza e ti auguriamo ovviamente un buon campionato e un in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie mille. Grazie a tutti.